Devo dire sinceramente che avrei preferito tornare qui a Scafati, magari giocando 40 minuti come nei primi 20, ma questo non è stato possibile e se fosse stato possibile ci sarebbe stato anche qualcosa di strano. Diciamo che, così entriamo nel vivo della partita, diciamo che quando Scafati ha cominciato a mettere pressione, a mettere il corpo addosso, rimani addosso, o sei pronto o subisci queste situazioni qui, le abbiamo subite perché sinceramente al momento questa è stata la prima partita con questo tipo di avversario di fronte e ovviamente questo ci ha spezzato prima di tutto secondo me mentalmente, perché abbiamo eseguito poco, abbiamo eseguito male, abbiamo eseguito con poca intensità, soprattutto nel gioco senza la palla e chiaramente di fronte non c'è chi non ti punisce quando concedi questo, per cui alla fine soddisfatto per i primi due quarti e speriamo che questa partita ci serva realmente da allenamento per entrare nel vivo del campionato che adesso è nel vivo.